Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, hanno inaugurato nella mattinata del 3 maggio 2021 il nuovo hub vaccinale di Ostia presso il polo acquatico Freccerossa. Si tratta di una struttura con 10 cabine operative per 12 ore al giorno per una stima di 600 vaccinazioni quotidiane. Il polo acquatico è la sede in cui si allenano i grandi campioni del nuoto e della pallannuoto italiani. Naturalmente sono stati predisposti percorsi specifici e i locali riservati alle vaccinazioni sono del tutto separati da quelli degli atleti nella zona ovest dell'impianto con un grande ambiente coperto per l'accoglienza, triage, vaccinazione e osservazione, uffici per medici, paramedici, operatori e parcheggio scoperto. Il generale Figliuolo parlando ai giornalisti dell'andamento del piano vaccinale dopo il raggiungimento dell'obiettivo di 500 mila vaccini al giorno ha spiegato che per accelerare ulteriormente è opportuno impiegare tutte le dosi di vaccino a disposizione per cui si sta valutando di estendere l'uso dell'AstraZeneca anche agli under 60. I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è un vaccino che è consigliato per determinate classi ma sia l'EMA, l'EMA dice va bene per tutti. Considerate il vaccino ad adenovirus che in Gran Bretagna oggi hanno somministrato 21 milioni di vaccini a AstraZeneca. Questo è importante perché fare il vaccino vuol dire salvarsi. È chiaro che ci sono degli effetti collaterali ma sono infinitesimi. Dobbiamo impiegare tutto. Se non impiegiamo tutto il ritmo della campagna non raggiunge risultati ed effetti evoluti nei tempi che mi sono prefigurati insieme alla mia struttura e insieme alle regioni. Appena 24 ore prima, nella giornata di domenica 2 maggio 2021 inoltre, è stato inaugurato anche il polo vaccinale creato presso il centro commerciale Porta di Roma, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa italiana e l'ASL Roma 1, dove potranno essere vaccinate fino a mille persone al giorno.